titolo del video con un rigore a partita anche la sanetana vincerebbe il campionato con un rigore a partita anche la sanetana vincerebbe il campionato perché che dico di male dai dai mettete like ho messo la community mettete like lo mettete anche nel video ma dai subito subito mettete like se questa squadraccia è corrotta povera aiutata e ladra come si chiama quella squadraccia prescritti prescritti comunque tu ti immagini di vista il prossimo anno faccio così buongiorno ti saluto dando perché poi c'è il calcio poi io ti odio soltanto calcisticamente parlato no se tu puoi dare fastidio la cosa capisco però il prossimo anno intervista vuoi vedere che io farò un canale a parte dove parlerò sempre bene di te e avrò più scritti di questo canale facciamo una scommessa visto che parla sempre di scommessa facciamo una scommessa e che purtroppo poi qua va a discapito mio se parlo male sempre di te vedi iscritti accuzzano sono corti avevo 7830 mostro stamattina 7810 come 20 iscritti vendi per scritti iscritti pesche se ne sono andate non male parlo male sempre di te capito ma è come si fa a parlare benedetta ripeto se tu vuoi esagerare se facevi ecco come la juventus visto che metti sempre in bocca la juventus ha visto breme breone che vi dico se dove visto breme visto il rabbio con la roma il gol fuori gioco ha visto con il bologna alla fine sono contato quelli miei sono contati ma io a parte che io non ci sono mesi ti dico non è che tu stai rubando a me lo scudetto perché adesso fa schifo io già tu dico subito qual è che a fare invece se io con un altro allenatore ecco due cino campisti giusti o questo campionato me lo giocavo sicuramente alla pari con te perché sai cos'è il bravo c'è chiesa un altro allenatore tipo italiano anche voglio dire che su tecomotta vediamo tecomotta mettiamo dei zebbi hai fatto 40 gol tutti e due purtroppo quello è me quello è me quello è meno male ma io sono una persona sportiva tu non sei sportivo tu sei tifoso con i paraocchi capito per te l'interismo non rubi tutto a posto onesto no no ma tu perché rosi capito hai fatto la final della juventino picchi praticamente ripeto la juventus quando faceva così ma rivederono tata tata aiutino tata tata aiutino ma qua ogni partita ogni partita spiegami i tuoi dodici rigori allora o ieri ci fu nei commenti così in generale lo sai no ragazzo meccato spot mesi corrido lo sport perché poi la gente c'è anche gente frustrata dell'inno attenzione pur peggio di me attenzione però a maggior parte o ci fu un interista in un commento mi ha detto ma da allora veramente ce l'avete con l'inno almeno quello e ragazzo di rigore almeno guarda lo faccio vedere lo metto come miniatura almeno quello che significa almeno quello perché la cosa è palese pure per lui almeno quello perché il rigore di ieri c'era magari e quelli 12 quelli 11 non c'erano almeno quello questo significa ah dai su sette minuti di recupero senti perché ti vanno dato più di più di perché mi dà due minuti di recupero tre minuti di recupero perché perché dove vinci per forza voi capito poi c'è l'inno è più forte attacca io non si può dire niente venite tiri contro ma va possesso ma va io io vedi sono obiettivo voi avete tre anni che siete più forti ma ripeto meno male che meno male che se tre anni diciamo avete vinto un camionato cucconto e che sono in zaga sicuramente ad oggi in zaga è meglio di allegria vedi sono sportivo perché in zaga meno si è evoluto anche sul calcio no almeno sul sul piano del gioco quello che si è evoluto quello che era presto ecco vedi sono sportivo io dico le cose giuste poi ripeto io per le sua lingua non ne ho capito ripeto prossimo anno faccio un canale che parlerò sempre bene di te bene ma io farò e faccio la differenza vuoi vedere parlo bene pure si dice no ragazzi perché io ho visto ripeto tanta gente fare così è un canale crescere va bene intanto sai chi sono quindi per cui sempre così ragazzi comunque ripeto due cose sono così cioè sono certe della vita la morte è il ricorre per l'inter però c'è due il primo o qualche dubbio va bene il primo qualche dubbio perché uno dice quello è sicuro quello uno quello è sicuro quando fa una cosa ma è sicuro raggio ma è sicuro e tutti diciamo sicuro è solo la morte capito ma quando voi avete superato proprio la chi la fisica proprio avete superato tutto perché prima che c'è la morte c'è un ricorre per l'inter che ha 12 ricorre per l'inter rendi conto e lo so in delizio mi metto nei due panni e ti dà fastidio dice ma perché la mia squadra vedi non criticava vedi come come mi assa e figura e figura io penso con nove scudetti di fila hai visto cosa ho provato io perché tu provi le stesse mie come dice cattivere insulti e vedi cosa ho provato io poi va in europa e perdere finale tu a me invece cose dove io fici nove finali tu quando fai finale hai fatto fai una roba e sei palleggiato da un misero rea società e poi scoppi fuori con altri domani che in due confronti sarà più forte si è il ricorre qual è il ricorre che ancora c'è un gol di De Pai buttato dalle stelle ha fatto un ricorre di ieri l'interista aveva il ricorre di Martina palla ma ma madonna spero non lo bacio ma lo bacio ma come non è il top pre quello ah sai che il ricorre fa lì ma no tutti i linderisti che si sono cagati per il ricorre di Martina mamma mia io quando veniva a De Piero, Tevez, Flavio, Flavio, Flavio e Flavio mi sono detto vabbè tanto chi lo segna qualche volta può sbagliare ma vuoi tu ma vuoi che tu la taro è scandaloso ma la taro ti sei cagato ieri eh comunque veramente poi un'altra cosa no c'è sta tu ti dici vabbè in base troppo io non parlamo ma c'è ma c'è sta allora faccio fai ascoltando non c'ho la maglia della ciotola dell'arte non c'ho la maglia della ciotola dell'arte non voglio fare proprio ti faccio vedere perché rubate no allora mi hanno dato quel ricorre no ma un ricorre alla fine un portiere insomma un ricorre quello dico un ricorre il portiere ci ha dato proprio la 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 pacca sulle spalle diciamo la 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 scaventata a terra il ricorre tu ricordi che il ricorre no questo si che è il ricorre però sai cosa è il problema ma 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 c'è la c'è la c'è la c'è la muttuna diciamo la spinto con la spalla c'è lui turamma se faceva veramente il vero professionista faceva la spalla perché la spalla è caduto cosa c'è nel vi perché coprisse il viso capito e quello è già quella per me è una magani che non la spinto e ha fatto di tutto per procurarsi il ricorre capito poi quella è la la furbacchiata delle e poi c'è stata la furbizia dell'attaccante capito e l'abbio ricorre perché perché vi aiutano la marotta lì vi aiuta pagano la per forza così ragazzi e sai perché ti dico ancora e dimmi una cosa perché con la roma perché allora spiegami allora ripeto no lascia vedere sui venti con la roma a lecce con la roma a lecce stessa dinamica non ha dato il caccio di ricorre anzi l'angolo è più grave perché la cucina la zi 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 dischi la qualsiasi chilo la poteva lecce c'è una rampirata proprio l'ampeso nelle costole e chilo nel ricorre infatti dei rossi se l'ha inventato o no ho sbaglio sbaglio o non sbaglio? spiegami questo allora spiegami la differenza tra anzi un ricorre diciamo di turam con l'udinese e quello non dato alla roma con il lecce spiegami quello mi spieghi quello allora ti dico guarda cancello tutte le latrate che hai fatto spiegami quello perché alla roma non ci hanno dato quel caccio del ricorre e a voi si spiegami quello perché di solito dicono che i portieri quando quando esce il portiere ha sempre ragione a me è una cosa non abbiamo insegnato ma non è così perché il portiere si fa o fallo il giocatore e il ricorre pure quindi diciamo che il portiere è tutelato dal regolamento del calcio quando piglia la palla cosa l'attaccante magari che so l'attaccante lo prende prima della palla magari scaramente il portiere a terra e diciamo si dice carica il portiere a me da regolare era così poi le cose sono cambiate in effetti anche io gli ultimi regolamenti non l'ho più letto perché in effetti vado là regolamento del calcio vedo tutti i regolamenti e cose ma con questa varra la danno la danno poi la danno poi la danno quindi alla fine una cosa è certa voi avete avuto 12 rigori c'è un analogo su 11 rigori ne ha segnati 10 quindi qualcosa c'è a essere o no non li vedi queste cose no perché ripeto queste sono cose eclatanti capito che ripeto una persona senza lingua te le dice chi vuole fare il lecchino per esempio in questo caso sulla piattaforma youtube si cresce il canale ma io metto prossimo anno farò un canale guarda bare palermo lo sportivo lo giuventino sportivo una cosa del genere farò ma poi mi inventerò un nome del canale e parlerò sempre bene di te e di tutte le squadre vuoi vedere la differenza da quando cresce questo canale e l'altro vuoi vedere e poi vedi e poi di capo o ma no o ma quest'anno no ma il campione è finito prossimo anno inizio il campionato prossimo anno ci saranno raggiudenti nuove e tu diranno un bar e tu si che sei sportivo vuoi vedere? vuoi vedere come cresce questo canale? e te lo faccio vedere io perché poi qua vada ripeto al discapitato mio perché più parlo ma dell'inde vedi perché c'hai dopo 10 anni 7800 parlare semmi male di te e non male si parlava semmi male di te il mio canale cresceva capito? e buttavo merda alla juve pure attenzio perché dovevo buttare ancora la merda pure quando vinceva si buttava la merda alla juve ormai questi giochini che fanno quasi tutti youtube capito? la gente è arrivata ieri perciò è arrivata la 20 mila iscritti 40 mila 80 mila ma c'è gente che arrivava tre giorni fa e mi hanno superato ma che cazzo lì? dai e voi sapete chi sono? perché? però per me quelle persone sono lecchine non sono stato mai onesto capito? eppure di facciata sono più sportivi loro che io capito com'è? e che l'ho fatto eh? ripeto la c'è stai sui ventino no? la c'è stai sui ventino spiegami 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 il rigore dato a voi giustamente e il rigore non dato alla Roma spiega la differenza no? perché io non ho mai visto a voi un rigore non dato sempre il rigore per l'inde e dai ma poi poi si stufa così siete forti siete aiutati quindi questo è un cambiato falsato no regolare per te quante partite è rubato? lo sai io ho sommato saranno minimo qualche 19 partite minimo ma quanti ricordi date a cazzo poi a voi perché ogni volta aiutino il rigore poi la fortuna vi assiste pure il palo fuori fa la palo la pala va indietro sai come ho le benzi tu ricordi il gol di Mclinders la chiuso di testa la che c'ho blues uppert che spasciava la tutto sangue quando Mclinders tirava Benji Price aveva parato però piglia la palla e la palla ci scopera il Mclinders perché fu fortunato però quello ci ha creduto almeno ripeto ma linda ripeto vi hanno bombardato troppo in Italia vi hanno bombardato troppo io ho avuto ragione perché ho detto voi siete una squadra normale in batti fuori siete stati palleggiati dalla sua città e l'altro come ha detto non c'è stata storia dai al ritorno poi vi hanno suclassato a finire il rigore per chi ha avuto la fortuna ma la non si ruba in Europa non si ruba te l'ho detto te l'ho detto poi in finale non ci vuoi mai in finale una volta che vanno in finale vedo come c'è Sidi, Siviglia, altri come la Tisope Europea questo non c'è né il tripletto europeo com'è? allora tu puoi pensare ancora a quel 3 mese famoso allora comunque il gol di questi anni questi 3-4 anni perché tu non farai mai 10 a 6 io sento i video di youtube per 10 anni vinceremo, vinceremo sempre voi ma quanto? intanto qua ancora ripeto non ci sono stati scudetto 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 inter 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 no no ogni anno cambia, Milano, Napoli e ora voi capito? prossimo anno vinceremo le due si, poi vedremo comunque poi mi dice prossimo video parlaremo della Juventus dici che Felipe Anderson dice vabbè fin anni se parlaremo lo zero poi parlaremo un video a parte perché mi da frattesi? dammi a frattesi e vada come fa frattesi a giocare con voi? chi lo frattesi potrebbe giocare titolare nella Juventus? dammi a frattesi dammi a frattesi capito? con i giocatori come si dice? è magari un peccato lasciarlo in banchina capito? però entra anche i frattesi quest'anno vi ha salvato il culo accendo quanto è il gol questo a 90 entra chi su frattesi mi pare perché tu sei piccolo mi pare il massaro del Milan c'era una volta un certo massaro entrava e segnava un Milan quello di Gullit del triolandese Gullit, Van Basten e Rijka però chi lo era attaccante? ogni volta massaro novantese o massaro su un segnava Gullit, Van Basten e Rijka c'era massaro chi su qua? e chi su qua? chi su frattesi? entra e segna entra e segna è assurdo però è bravo ragazzo capito? a me piace il frattesi dammi a frattesi dammi a frattesi ascolta a me capito? è veramente è un peccato che questo giocatore fa la panchina capito? nella Juventus questa Juventus scarsa o mediocre giocherebbe il titolare capito? frattesi io con frattesi e Anderson nel campionato mi giocavo pensa un po' pensa con un allenatore ovviamente vedi che ti dico? comunque ripeto lo scudetto non me lo starei rubato a me lo potevi giocare a me con il Milan perché tu non ce l'hai con il Milan pure 17 punti si no quando sono duri 15 punti non ce l'hai tutti questi punti ma completamente eh perché hai rubato tante partite cose purtroppo e cose uomo ti saluto spiegami ripeto spiegami la differenza tra il rigore vostro e quello della perché a Roma non ce l'ha notato con lei c'è a voi spiegamelo eh beh questo perché io mi spiego io me lo spiego perché c'è una lotta lì perché la ragazzi avanti sei troppo aiutato a Gravino non l'ha solo tu che se ti fossi con i parrocchi non l'ammetti tutti l'hanno ammesso cioè qua c'è i soldi non è che sono i vivendino qua c'è un milanista un romanista un napoletano vi vanno tutti contro spiegami il motivo qua non hai fatto il rosicare tanto alla fine si capisce un anno vince un apolo un mino poi vince la Juve poi vince la Juve poi 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 la Juve ogni partita non c'è una partita ripeto ho detto sempre in Italia non c'è una partita pulita che voi vincete capito? oppure nella massa troppe partite rubate meno partite vinte regolarmente è così tu dici ma sei i vivendino nooo non hai fatto i vivendino scrivemelo ancora io voglio sentire dimmi il rigore non dato alla Roma con il Lecce non l'hanno dato guarda caso perché a Roma perché non l'hanno dato a voi a Utile vi saluto qua trattato la Juve non l'hanno dato si vuoi la Juve